Quindi non ti ha visto? Allora vuol dire che non ti ha riconosciuto. Ma tu hai visto lui e sei pronto a testimoniare. Ti spediranno da qualche parte. Chissà tu ne lo sai. Parli italiano? Italiano, capisci? Sono italiano, siciliano. C'è qualcuno qua. E' certo che c'è qualcuno, è un residence. E' mica tutto tuo. Qua siamo a un passo dalla morte. D'altronde si vive rischiando. Mi hai trovato. Chi non sa nessuno che sei là. Ti dico che è l'ogno. E' un invito per cena. Buono. L'hanno arrestato appena hai testimoniato. Come l'ha messo dentro ho cominciato a parlare. Diventato collaboratore di giustizia. E' un pentito. Adesso sta con noi. Qua io posso essere chi tu che voglio. Ma ti è manco passato. Mi manca i miei figli. Compa. 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 La più grande è fuori. La più grande è fuori. Ma ti è un pentito. La più grande è fuori. La più grande è fuori.